Ciao a tutti amici di Popcorn, purtroppo a distanza di pochi giorni vi devo portare un'altra notizia di rotto. Anthony Elchin, conosciuto per i suoi ruoli in Star Trek e Terminator Salvation, è morto in un incidente d'auto a soli 27 anni. Elchin non si è rappresentato alle prove ed è stato trovato schiacciato tra la sua auto ed una cassetta della posta in mattoni la notte del 19 giugno. L'attore aveva appena completato due film, il dramma Porto e We Don't Belong Here. Inoltre era stato selezionato pochi giorni fa come protagonista per la serie animata di Guillermo del Toro, Trollhunters. Inoltre lo rivedremo nel nuovo capitolo di Star Trek il 21 luglio 2016. Per saperne di più su questo attore vi invito a visitare www.screeweek.it. Ciao!